Sgombriamo il campo dalle ferie, perché il comune di Napoli almeno per quanto riguarda la giunta non è mai andato in ferie, noi siamo stati sempre sul pezzo, quindi per noi agosto è stato come luglio e luglio è come giugno, quindi Napoli ha avuto secondo me questo tipo di fotografia per essere sintetico, una faccia di una Napoli con una presenza di persone e soprattutto i turisti che credo non abbia mai avuto dal dopoguerra ad oggi, quindi questa immagine vuol dire che Napoli è entrata nella storia per presenze turistiche, per energie culturali e fin anche tanta serenità e tranquillità delle persone che stavano per strada, quindi questa era un'immagine straordinariamente bella, sulla quale però strideva una città che io vorrei avere sempre di più maggiormente presentabile sul piano del decoro e della pulizia, mi sono molto arrabbiato nel mese di agosto perché ho visto delle cose che non devono mai più accadere, perché secondo me una città oggi come Napoli non si può consentire il lusso, lo so che farebbe ridere se uno pensa 5 anni fa che c'era l'emergenza di più, però noi puntiamo al massimo, è quello di vedere l'erbaccia che cresce attorno al marciapiede o continuare a vedere uno spazzamento che arranca, quindi io questo l'ho chiesto a tutti, l'ho chiesto ai presidenti di municipalità, l'ho chiesto agli assessori, l'ho chiesto ai dirigenti, l'ho chiesto a tutti, compresi i cittadini, l'ho chiesto a me stesso, quindi noi se vogliamo puntare come ambiziosamente stiamo puntando a ritornare nel top internazionale dobbiamo, quindi questa doppia faccia non ci deve più stare, che non significa che non ci saranno i problemi, attenzione, poi ci sono i problemi strutturali più difficili da risolvere che sappiamo essere quelli del trasporto e altri, ma questi altri invece sono il frutto di una migliore organizzazione che il comune di Napoli e la città di Napoli si deve dare. Io incontrerò come ho sempre fatto e nella priorità dei prossimi giorni ci sono incontri importanti con i gruppi politici, con le forze in campo, con i consiglieri, con i vertici delle partecipate, noi stiamo lavorando a tutto campo e l'obiettivo è quello di migliorare il sistema di comunicazione in generale dal punto di vista istituzionale e politico, quindi miglior rapporto con le organizzazioni sindacali, miglior rapporto con le forze economiche, miglior rapporto con le forze politiche, miglior rapporto con la città. Io penso che oggi rispetto alla fotografia di cinque anni fa, ma anche rispetto a un paio di anni fa c'è più consapevolezza nelle possibilità della città. Oggi ci crediamo tutti, non è più solo un sindaco visionario o qualcuno che lanciava subito il cuore oltre l'ostacolo, oggi la città ci crede, allora il compito del sindaco è fare degli sforzi in più e mettere insieme tutte queste energie che sono fondamentali, perché il passo in avanti, il plus valore, l'arma in più passa anche attraverso un maggior coinvolgimento da parte nostra delle forze politiche, le organizzazioni sindacali e delle forze economiche. In città, poi prima o poi, ripeto, ci sarà anche qualcuno che si accorgerà di Napoli e allora cambierà anche, come dire, secondo me anche quell'altro passaggio di cui abbiamo parlato prima. La città è effervescente, pur che sia un'effervescente naturale e politica, è bellissimo, io mi annoierei se non ci fosse un'adrenalina quotidiana, io ho già detto, è inutile che torniamo su questo tema, io penso anche che ci sia più maturità politica in questo Consiglio Comunale, ma anche nella Giunta, anche nel sindaco, insomma, c'è più esperienza, c'è più maturità, quindi si lavorerà insieme, stiamo lavorando per le elezioni della città metropolitana che sono molto importanti, quindi non ci sono, non ci c'è l'effervescenza, le fibrillazioni, la dialettica, le tensioni, se servono a migliorare il lavoro di squadra, l'azione amministrativa, l'azione politica, sono cose positive. Se l'effervescenza è che qualcuno pensa che l'azione politica amministrativa passa esclusivamente nell'attribuzione di poltrono di incarichi, quella è un'altra cosa, poi la politica è anche fatta di incarichi, di assegnazioni, ma quella è un'altra storia, quindi io vedo un orizzonte positivo nell'azione politica amministrativa che io voglio allargare anche nella città metropolitana, quindi non sottovaluto le elezioni del 9 ottobre della città metropolitana. Non è un'aggiunta a tempo, non ci sono assessori a tempo, siamo noi che siamo tutti quanti con la clessidra in mano, siamo ognuno di noi che ha un'azione che è sottoposta al giudizio popolare come il sindaco recentemente alle elezioni, così come gli assessori, non ci deve stare né un'ansia da prestazione né qualcuno che può pensare che c'è una scadenza che può essere il Natale o ottobre. Chiaramente io mi sono dato un primo momento per valutare sicuramente l'inizio dell'azione amministrativa che è il mese di Natale, mi sembra giusto dare quei 3-4 mesi per vedere se le nuove dele che funzionano, se la squadra va bene, se i miglioramenti che ho chiesto vengono raggiunti. Io l'ho detto, ma questo in generale, lo sarò con me stesso e con tutti sarò più duro in questo secondo mandato, ma questo mi sembra giusto. Mentre se io parlavo 5 anni fa di Erbacce, voi ai cittadini mi facevate una pernacchia perché stavano 2.500 tonnellate di rifiuti, oggi il sindaco non è un paranoico se parla di Erbacce, è uno che come la città vuole puntare sempre di più al bello.